Laura McKees lascerà Maranello per passare in Alfa Tauri? Sarebbe l'ennesimo addio a Ferrari da parte di un personaggio importante. L'articolo viene pubblicato su Gazzetta, dove addirittura si dice che il racing director di Ferrari avrebbe già firmato per il team di Faenza e potrebbe già trasferirsi nel corso della stagione di quest'anno. La notizia è data quindi per certa, addirittura si dice che non era un mistero che McKees volesse andarsene e che già alla fine della stagione 2022 si era guardato in giro cercando un altro team dopo la sostituzione di Mattia Binotto. Ragazzi, sembra che con l'arrivo di Vasseur vogliano scappare tutti. Questo sarebbe l'ennesimo addio dopo Gino Rosato, Jonathan Giacobazzi, David Sanchez, eccetera eccetera. Ragazzi, in Ferrari più che una rivoluzione mi sembra in atto un fuggi-fuggi.